Da anni, dopo essere sceso dalla volante, il colpito di gestire gli atti redatti dai miei colleghi in servizio di battuglia. Innanzitutto voglio ringraziare la Polizia di Stato per avermi regalato nel corso di 21 anni esperienze professionali ed umane che hanno forgiato l'uomo che sono. Un uomo che è benvenuto padre di tre figli splendidi di 10, 6 e 5 anni insegna loro ogni giorno i valori della legalità e della convivenza civile. Oltre al mio incarico quotidiano, da anni i miei dirigenti mi hanno concesso l'onore di portare l'uniforme della Polizia di Stato nelle scuole. Un onore, un'immensa emozione poter entrare in numerosi pressi scolastici primari della provincia per proporre ai bambini e bambine tematiche di legalità, convivenza civile e rispetto della vita. Ricordo ogni ingresso nelle aule e anche ogni collegamento in DAD durante le punte di contagio Covid. Entrare in punta di piedi sotto lo sguardo sorpreso e emozionato dai piccoli, il loro vociare, le presentazioni e le prime domande su cosa fa la polizia, quali sono i suoi mezzi e quali le razze dei cani in servizio. Poi le inevitabili. Avete mai usato la pistola? E le manette? Insomma, l'inesauribile curiosità dei bambini, perlomeno di quelli più vietaci, mentre quelli più timidi, col costante sguardo ad occhio di due puntato su di me. Dopo aver risposto alle loro curiosità, ho sempre proposto loro un momento di riflessione e condivisione e da qui ogni volta è minata una magica navigazione a vista. Da una parte io col bagaglio di poliziotto e padre, dall'altra i piccoli con le loro inesauribili risorse. Partire col porli davanti al dato di fatto che tutti noi siamo degli esseri speciali, differenti, unici, in sostanza un vero miracolo della natura da curare e preservare. Parlar loro dell'importanza di riconoscere e vivere tutte le emozioni, perché non viverlo o smorzarle può diventare veramente un problema. Del valore che ha una propria idea, un pensiero critico, perché è più bello confrontarsi con gli altri mettendosi in gioco consapevolmente. Poi di quanto sia immensamente bello vivere all'insegna del senso di comunità, di libertà, di legalità e di giustizia. Il tutto impreziosito da quella gentilezza, atteggiamento pacato e non arrendevole da alimentare a partire dalla famiglia. Infine di quanto siano fondamentali le passioni, gli interessi, i sogni e la scuola. Quest'ultima officina di formazione, prima esperienza di competenza sociale e quindi di confronto. È stato bello ed emozionante quando i bambini si sono inseriti in questo parlare descrivendo loro situazioni, come ad esempio litigi. Tutti spunti per me per poter entrare nel loro vissuto e trovare insieme il modo migliore per affrontare la cosa, sempre rimarcando l'importanza del rispetto vicendevole ed incondizionato. Insomma, con tanti piccoli esempi e una dose di mia passione, semplificare loro e tutti quei temi, tutti quei valori, utili anche a contrastare le sempre attuali piaghe della mentalità che fa vivere qualsiasi associazionismo criminale, della mentalità che alimenta la violenza contro le donne di genere, il bullismo e le prevaricazioni in generale. Sì, perché ho sempre detto ai bambini che tutto è inizio da noi, dalle nostre idee e scelte, e che le cose che ci circondano, come ad esempio un telefono cellulare, sono solo uno strumento. Ho voluto trasmettere loro un'immagine di bellezza e speranza e credo proprio che loro l'abbiano capito. Le parole messe in gioco negli incontri sarebbero state relegate da un adulto a mira retorica, ma i bambini hanno momenti ricettive e sensibilitari da poter rendere queste parole un tesoro. La scuola è un luogo di ricordi per tutti noi, mi auguro che anche per questi bambini l'incontro con la polizia possa essere un bel ricordo, poi chissà. I bambini mi hanno gratificato tanto, ricordo in particolare l'affermazione di due due loro al momento del saluto al suono di arrivederci. Una bambina è rimasta sempre in silenzio e senza perdere mai di visto mi ha detto, con voce lieve, grazie poliziotto Fabio, non avevo mai sentito queste parole. Un altro bambino invece, il quale dall'ultimo banco ha sempre sbadigliato mentre parlavo, mi ha chiamato e detto, poliziotto, ho ascoltato bene le tue parole, solo che l'ultima ora, capisci, sono stanco e affamato. In conclusione posso dirvi che in questa esperienza ho assaggiato come la polizia di Stato, entrando nelle scuole, concretizza e affina il suo obiettivo di prevenzione e prossimità, traendo anche i bambini la voglia di esserci sempre e ovunque.